cari amici una bella canzoncina di natale dal titolo Mary did you know? Maria lo sapevi tu? scritta nel 1984 da Mark Laurier musicata da Buddy Guetta nel 1991 si sviluppa intorno a una sorta di intervista immaginaria a Maria su cosa sapesse o non sapesse esattamente di quel bambino che aveva dato alla luce nella notte di Betrè la notte in cui tutto cambiò sintetizzando al massimo così recita nella traduzione italiana la canzoncina Maria lo sapevi che il tuo bambino giorno avrebbe camminato sulle acque lo sapevi che il tuo bambino avrebbe salvato i nostri figli Maria sapevi tu che il tuo bambino può calmare una tempesta con una mano e che quando baci il tuo bimbo baci il volto di Dio che questo bambino che stai cullando è il grande e immenso Signore del Cielo quello che noi sappiamo di certo cari amici come evidenziato chiaramente dai Vangeli e ricordato dal Concilio Vaticano II e che anche Maria ha fatto un percorso di fede è cresciuta nella fede e la conservava tutto quello che riguardava il suo figlio e lo meditava alla luce dello Spirito Santo per penetrare nel mistero della sua persona divina quello che sappiamo è che per la purezza del suo cuore era piena di Dio e docile all'ispirazione dello Spirito Santo decisa a seguire suo figlio fino alla fine fino all'ignomine della croce è proprio lì sotto la croce per volontà del suo figlio divino è diventata la madre della chiesa la madre di tutti i cristiani la nostra dolcissima e tenerissima mamma è tutto per adesso ciao e Dio vi benedica sempre e Dio vi benedica sempre